Fra meno di due settimane, otto giorni lavorativi, Nuova Carpe diventa a tutti gli effetti B per banca. Perde il suo nome storico, tornerà ad essere banca del territorio. E la domanda che rivolgiamo al direttore generale di B per banca Ferrara, Antonio Rosignoli, che ci ha accolto nel suo studio. Siamo nella sede centrale della ex Carpe di Corso Giovec, per i ferreresi, è un luogo noto, ma siamo in prossimità di una vera e propria svolta storica. Ringraziamo il dottor Rosignoli di averci accolto. Grazie a voi. Ed è a lei che rivolgo questa domanda per prima. Quindi, svolta storica, Carpe scompare anche come sigle, insegne, dal 20, lei ci diceva quasi nell'80% delle filiali che restano. E banca del territorio? Sì, grazie dell'opportunità per poterlo ancora una volta dichiararlo e dichiararlo a voce alta. Banca del territorio. Come banca del territorio sono tutte le direzioni territoriali del gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna o Biper Banca che disivoglia. Perché lei diceva, scusi se l'interrompo, che Ferrara sarà una direzione... Ferrara con lunedì 20 novembre, ecco perché gli otto giorni lavorativi, diventa a tutti gli effetti la decima direzione territoriale del gruppo Biper. Direzione territoriale cosa vuol dire in poche parole? Biper è divisa in 10 territori che vanno dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, quindi la parte peninsulare del nostro bellissimo paese. La direzione territoriale di Ferrara si incastra in queste nove già presenti direzioni territoriale per diventarne la decima. La direzione territoriale perché? La direzione territoriale è di fatti un centro di governo, di decisioni e anche di poteri nel senso buono del termine che permettono a quel territorio di funzionare in maniera quasi autonoma. Quindi quando noi diciamo non ci sarà, anche se resta modena la centrale del gruppo, la testa, diciamo così, quella che dirige in sostanza, ecco Biper Banca, Ferrara, resta Ferrara. Ecco perché diventa importante affermare banca del territorio non solo come slogan, oggi un po' tutti torno sui territori, finalmente si è capito la valenza dei territori, noi non li abbiamo mai lasciati e li abbiamo negli ultimi anni dato ancora più dignità a questi territori proprio creando dei centri di potere all'interno dei territori stessi. Ecco, lei diceva che le filiali che restano sono 55 divise, diciamo così, in due aree, basso, ferrarese... Sono 55 filiali esclusivamente in Ferrara e la sua provincia, quindi a maggior ragione sarà una direzione territoriale propria del territorio perché non ha contaminazioni di altre province, di altre regioni come succede in altre parti d'Italia, quindi dedicata solo a questo territorio, due le aree sottostanti alla direzione territoriale, una basso ferrarese, quindi con sede ad Argenta, quindi ad Argenta avremo una filiale grossa, vasta, avremo una direzione di area che coordinerà 28 filiali di quello che noi abbiamo voluto chiamare il basso ferrarese, tutta la roba che rimane verso il mare fino al coparese compreso. L'altra area è quella più storica con la sede dell'area a Ferrara in via Bologna e quindi che governerà 27 filiali dell'alto ferrarese, quindi Ferrara città e per citare i comuni più importanti sicuramente Cento, Bondeno, quindi la parte più manifatturiera della nostra provincia, del nostro territorio. Ecco, andiamo per date perché questo percorso è avvenuto progressivamente, il 20 novembre si perfeziona quella che è stata definita l'emicoreg fusione per incorporazione. 30 giugno, Biperbanca perfeziona l'acquisizione dell'intero capitale di Nuova Carife, comprata a un euro, però hai ricevuta gratis? No. Ci spieghi? Il comprata a un euro è perché in Italia per effettuare un contratto, perché non si è a pena di nullità, quindi un negozio lui dice che devi metterci un valore. L'euro era la cifra simbolica che con Banca d'Italia vedi UbiBanca che ha acquistato le altre tre del SalvaBank, così venivano chiamate, ma è chiaro che l'euro è una cifra simbolica per essere regolarmente efficaci nel contratto, diciamo che la struttura di Nuova Carife è costata e costerà nel tempo decisamente di più. non dimentichiamo che l'arrivo di Biper in Ferrara con l'acquisto di Nuova Carife ha dato la possibilità, dopo gli esudi che erano già stati concordati per vecchi contratti sindacali, ha permesso a 510 dipendenti, questi oggi e quanti siamo, di continuare ad avere un posto di lavoro e di continuare ad avere non tanto i posti di lavoro, come dico io, un futuro professionale che probabilmente non ha... L'euro è simbolico però, diciamo che l'euro è stata così, una convenzione effettuata d'accordo con Banca d'Italia, perché questo era nel contratto a cui noi abbiamo fatto un'offerta che poi ci è stata riconosciuta. Perché voi l'avete comprata dal fondo di risoluzione. Assolutamente sì, come ha fatto la cugina UbiBanca per le altre tre, quindi per Banca Marche, per Carichietti e per Popolare Truria. Certo, allora 20 novembre si conclude la fusione, lei adesso ci ha spiegato qual è la caratteristica di questa direzione territoriale all'interno del gruppo BIP, ci sono dei vantaggi per i clienti, per le aziende, i singoli cittadini, le istituzioni, per il fatto che qui è una direzione territoriale? Indubbiamente sì, i vantaggi sono per tutti, per noi che dovremmo far funzionare questa nuova direzione territoriale, perché è chiaro che poter arrivare entro certi limiti, ovviamente perché poi rimane una direzione generale a Modena, che al di là delle strategie e delle politiche, sia di credito sia commerciale, ha comunque un controllo e comunque è quella a cui ricorriamo quando certi tipi di operazioni vanno oltre certi limiti. Ricordo che però per Ferrara la direzione generale è Modena e quindi Ferrara-Modena in un'ora di macchina scarsa si può risolvere qualche problema che dovesse presentarsi. Ormai tra Modena ci sono diversi legami, diciamo. Sì, no, il primo è che siamo tutti i figli degli estense e quindi mi pare che sia un forte legame. E poi abbiamo i gruppi di Confindustria, l'Università, 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 quindi sì. Sì, noi arriviamo a Ferrara anche per questi legami, è la provincia più vicina alla provincia modenese, ma non vicina solo come chilometri, ma vicina come usi, consuetudini, costumi, mode di fare, mode di pensare, quindi ci era sembrato giusto fare anche questo passo. Dicevo, la direzione territoriale avremo dei vantaggi, il gruppo di 47 persone che formerà la direzione territoriale, perché è chiaro che avrà un approccio e una possibilità di esprimersi immediatamente sul territorio. Ovviamente, per converso, siamo assolutamente convinti perché non è una prova che fa il gruppo Biper, ma è una realtà consolidata in tanti altri territori che la vicinanza e la capacità decisionale per la stragrande maggioranza delle istanze, siccome rimane sul territorio, sicuramente in termini di velocità, di capacità di espressione del perché di un'affermazione o del perché di una negazione, farà bene a tutta l'economia del territorio e per l'economia non intendo solo le imprese, ma anche tutti gli stakeholders, quindi i privati, le famiglie, quelli che comunque chiedono qualcosa alla banca, con, secondo noi, il rispetto dovuto di avere una risposta in tempi assolutamente cederi. Ecco, Biper, gruppo A, appena vissuto una svolta storica, perché a fine 2016… Sì, non ci siamo fatti mancare nulla negli ultimi anni. Sì, da la società cooperativa, vi siete trasformati in società per l'azione. Non ci siamo fatti mancare nulla. Quindi c'è stato il superamento della struttura cooperativa, un addio al modello capitario e i soci pesano in base al numero di azioni possedute. Biper è un gruppo che comprende le 110 direzioni territoriali, che è il sesto gruppo italiano dal punto di vista bancario. Ferrara è un territorio che sarà anche vicino. Ci sentiamo cugini magari dei modenesi, però sicuramente dal punto di vista imprenditoriale, produttivo, non siamo una provincia ricca come è quella modenese, per esempio. E poi Ferrara in questi dieci anni, oltre alla crisi generale di sistema economico, oltre al fatto del terremoto, che anche quello ci vede vicine, veramente si è molto impoverita e la vediamo sempre un po' fanalino di coda nelle statistiche regionali. Allora, la domanda è chi ve l'ha fatto fare di venire a Ferrara? Allora, ce l'ha fatto fare la convinzione che essendo un gruppo su diversi territori, e le garantisco, io ho girato molto dell'Italia, direi che tranne una zona particolare, le altre le ho coperte tutte, ci sono dei territori con le stesse problematicità, le vogliamo chiamare così, che è il territorio di Ferrara. Cioè, in Italia non è tutto Modena, non è tutto Bologna, non è tutto Milano, ci sono dei territori che hanno delle loro peculiarità, senza avere i volumi che ha una Modena, una Bologna, una Milano, una Roma, la peculiarità del territorio ferrarese la conosciamo bene, perché noi ancora prima dell'operazione Carife, comunque 12 filiali come BIP sul territorio dove avevamo, ed è un territorio economicamente molto diverso da quello modenese, e su questo siamo assolutamente d'accordo, su questa riflessione, ma è un territorio con le sue peculiarità, è un territorio pieno di agroindustria, pieno di agricoltori che stanno facendo e stanno cercando di fare, accompagnati anche dalla stazione di categoria, il passo finale, definitivo, per darsi anche una struttura di vendita e commerciale di un certo tipo, un territorio che produce fra le più grandi eccellenze italiane, e quindi dalla mela alla pera, la mela che conoscono pochissimi, la mela dicono tutti, pensano tutti, nell'evocazione che è il Trentino, è la montagna, la mela io ho visitato recentemente, e la pubblicità ha fatto molto, chiaramente, io ho visitato anche recentemente interi ettari a Meleto, abbiamo delle produzioni qua che pochi conoscono, ma sono una cosa fantastica. Quindi mi rilascio un po' a quello che ha detto il nostro amministratore delegato, il dottor Vandelli, l'8 di luglio, quando abbiamo fatto la prima riunione con tutti i dipendenti carifi per dire, è andata, siamo qui, proviamo a ricominciare, quello che ci si aspetta dal territorio ferrarese non è sicuramente gli stessi volumi del territorio modenese, perché sarebbe assurdo pensarli, in termini di volumi, in termini di soddisfazione da parte dei clienti, in termini di quota e di mercato, sicuramente molto vicino a quelli della provincia modenese. Per un semplice fatto, anche semplicemente, noi nasciamo come banca a Modena, quest'anno a giugno abbiamo festeggiato i 150 anni, l'altra data che io volevo ricordare. Siamo più giovani di quello che era Carife, ma doveva essere così, perché in Italia il movimento delle casse di risparmio nasce molto prima di quello delle banche popolari, però i nostri 150 anni li abbiamo fatti e li abbiamo festeggiati a Modena perché noi siamo nati, cresciuti e sviluppati principalmente sul territorio modenese. Poi nel tempo abbiamo cominciato a uscire. Allora, sono due le province con l'operazione Carife fatta dove ci vedono più capillarmente presenti. La provincia di Modena, ovviamente, è la provincia della nascita e dello sviluppo. L'altra provincia in tutta Italia più capillare come sportelli, come uomini e come energie è Ferrara. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di avere la stessa entratura in quota di mercato. Se ho X di quota di mercato in provincia di Modena, attendere l'attenzione di tutto questo nuovo gruppo che si instaura su Ferrara è di avere più o meno quell'X% che è oggi sulla provincia di Modena. Sotto quelle percentuali esprimeranno per forza dei volumi diversi. Ma noi i volumi sappiamo il territorio in cui lavoriamo. È un impegno che vi assumete. È un'aspettativa. È un'aspettativa. Del Consiglio d'amministrazione noi dovremmo cercare di accontentare il Consiglio d'amministrazione. Ecco, ci sono delle aspettative che si incrociano perché le aspettative del Consiglio d'amministrazione sono le aspettative dei Ferrari, le aspettative delle istituzioni, delle aziende. Il sindaco di Ferrara, Tagliani, ha commentato proprio intorno al 30 giugno o giù di lì Biperbanca ha davanti a sé un lavoro importante, non facile, per recuperare la fiducia del territorio e ampliare i servizi rivolti al mondo delle imprese. Ecco, questo è il tema della fiducia. in una città, provincia come Ferrara, che ha vissuto la vicenda Carfe, che è stata una vicenda che lei forse ha anche definito con toni abbastanza drammatici. Lei ha parlato per Ferrara e anche per altre aree del paese di una emorragia di fiducia in una situazione di eutanasia del sistema bancario. Quindi, diciamo, non si è fatto sfuggire, insomma, un commento anche grave. Allora, io dico, sapete che ci sono tante aspettative. Ecco, come vi state preparando ad incrociare queste aspettative? Allora, noi pensiamo di conoscere bene la bella storia di Carife e l'ultimo finale, che è durato anche moltissimo, della Carife stessa, che di buono non ha veramente nulla. soprattutto per la lunghezza anche del finale, che le malattie, se uno conclude in poco tempo, vabbè, poveretto, però è andato. Però se l'agonia l'allunghi a dismisura, la sofferenza diventa ancora più sofferenza. Quindi questa è una storia che conosciamo bene, che ci siamo riletti, che ci siamo riletti bene. Allora, noi dobbiamo francamente e anche doverosamente scindere in due questi momenti di sofferenza. C'è una sofferenza data da altri, per i quali noi potremmo fare ben poco. C'è la volontà da parte della nuova banca, del nuovo gruppo, di provare a mitigare la sofferenza, a non toglierla del tutto, perché un certo tipo di sofferenza non la... va metabolizzata, va portata dentro. Cosa mi riferisco quando dice proviamo a dare una mano a mitigare la sofferenza? Nessuno si vuole sostituire o vuole essere la panacea di tutti i mali, che si è concretizzata con quell'annuncio che abbiamo fatto anche con comunicati stampa una settimana fa, dove il gruppo mette a disposizione un ristore, la possibilità, l'offerta. Ovviamente ci mancherebbe altro, sono tutti autonomamente chiamati se aderire o meno. Dal primo di dicembre noi apriamo le porte agli ex soci carife e gli diciamo, caro ex socio, in base a quello che tu hai sofferto, quindi a quante azioni avevi, Certo, queste sono le vostre proposte commerciali che rivolgete agli azzerati cari. Noi siamo propensi, il CDA ha approvato questa offerta che viene fatta solo per gli ex soci carife in tutta Italia, quindi non è che sia una cosa che facciamo a cuore leggero, perché ha dei costi per la banca, anche piuttosto alti, e che non avevamo neanche troppo preventivato. Ti mettiamo a disposizione cinque prodotti di largo uso, che comunque tu, cittadino italiano bancariazzato mediamente, utilizzi. In quattro ti facciamo dei forti sconti, ma te lo diciamo e ti preghiamo di andare a controllare. Da quell'altra ti diamo la possibilità di reinvestire parte, o tutto, o quello che vuoi, però sempre in correlazione a quanto hai sofferto, cifre per 54 mesi come massimo, con delle cedole ogni 18 mesi, a tassi mi consenta, e poi appena avremo pronte le lettere, penso che i ferraresi se ne accorgeranno, a tassi completamente fuori dal mercato. Di favore. Assolutamente di favore. Se uno prende il giornale e va a vedere cosa rende mediamente, un titolo, un titolo di Stato, qualsiasi cosa. Questo cosa vuol dire? Noi quello che potremmo fare è questo, cercare di darvi parziale ristoro alla vostra sofferenza. lo possiamo fare a livello commerciale, l'abbiamo voluto fare, ovviamente abbiamo fatto lo scenario peggiore, lo scenario migliore, quanti sono i costi per la banca, perché ovviamente strapagare della raccolta in questo momento è avere dei costi in più. Però la risposta è stata grazie a Bipper, ma non siamo soddisfatti, vorremmo qualcosa di più. E' stata grazie, ma non siamo soddisfatti, da parte di qualche d'uno su qualche giornale. La risposta più pragmatica che io vedo tutti i giorni di pre-prenotazione di questi pacchetti, di filiale, se qualche d'uno deve dire no grazie, vogliamo di più, diciamolo anche domani, così qualche d'uno si affretta a farlo. Ascolti, di questa sentenza, di cui si è data notizia sempre sulla stampa in questi giorni, proprio del Tribunale Civile di Ferrara, che a proposito di un socio, ha detto in presenza di un voto normativo, non so assolutamente nulla. Comunque, diciamo, gliela resumo io, ha detto che in presenza di un voto normativo, nuova carife, non può tirarsi fuori, diciamo, dalle responsabilità, e quindi Bipper che l'ha acquistata pure. Guardi, non è la mia materia, No comment? No, no comment, nel senso che non è la mia materia, e non so assolutamente nulla. Mi hanno riferito di questa ordinanza, sentenza, non so dire, io ero a Milano, a un corso di aggiornamento fino a ieri, sono rientrato oggi, e nessuno mi ha chiamato per dire attenzione, quindi non... È un caso, obiettivamente, quindi la sentenza si fa su casi singoli, che ho detto che vorrò leggermi, ma me lo leggo tranquillo nel weekend. Certo, certo, per il momento nessuno dell'alta direzione mi ha telefonato dandomi istruzioni. Ecco, direttore, andiamo avanti, in un'altra dichiarazione, delle dichiarazioni fatte in questi mesi, logicamente, anche nelle sue interviste, ecco, è stato detto, credo anche, dal direttore generale Vandelli, l'amministratore delegato Vandelli, mi scusi, non più interventi a pioggia, ma piuttosto la cura verso i singoli, e singoli che abbiano un merito creditizio. Abbiamo capito, non più interventi a pioggia, ma quando un cliente ha il merito creditizio, proprio un cliente persona, soggetto singolo, perché e quando lo perde? Beh, se sei un singolo soggetto, e parliamo di merito creditizio, vuol dire, perché questo soggetto probabilmente ha chiesto un mutuo per l'acquisto di una casa, o un prestito, per fare le sue cose. Per il privato è abbastanza semplice identificare il merito creditizio, perché al di là di algoritmi, al di là di rating e via discorrendo, il merito creditizio è quando tu dimostri una capacità di rimborso in ordine e in linea con quello che ti stai chiedendo. Se io chiedo un mutuo, un prestito, che mi comportano 100 euro mese, di rata, 600 al semestre, e ho reddito a sufficienza, libero, non già impegnato per altre cose, perché io con reddito dovevo anche mangiarci, pagareci a scuola dei figli, eccetera, eccetera, il tuo merito creditizio è salvo. Il problema sul merito creditizio dei privati è quando comincio a avere due prestiti con finanziarie e oggi ci sono situazioni diffuse di questo tipo, proprio per la sofferenza di questo territorio. E sono situazioni, e noi infatti ci sforziamo e dirlo ai clienti, dove in questo computer qua collegati, ovviamente esistono delle centrali, rischi regionali, regionali, nazionali ed europee, se ce li hai saltano fuori. Allora è chiaro che il cliente deve dire tu hai già due prestiti, mi le stai chiedendo un terzo, il tuo reddito è rimasto per fortuna lo stesso, e quindi ce l'hai ancora, anche di questi tempi non è male, mi dici come faccio. Allora si tratta di parlare col cliente, proviamo a chiudere gli altri due, ne facciamo uno un pochino più grande, ma così ne hai uno solo. Quindi siete disponibili, diciamo, a dialogare. Il nostro mestiere come banca è proprio questo. Ecco, il tema che qualcuno ci poneva, il problema, noi andiamo spesso in queste riunioni di soci, clienti, eccetera, o di associazioni, di consumatori, e qui la domanda precisa era se io ho sforato il mio piccolo fido, ho bisogno di un po' di tempo per rientrare, non sarà immediato. quindi quando recupero il mio merito creditizio, la banca è disponibile ad aspettare, ad attendere, che è la situazione migliore. Io quello che raccomando sempre al privato, alle imprese piccole, alle imprese grandi, quindi a tutti, col sistema bancario, e quindi voglio allargare il discorso, anche al sistema bancario, ma noi per primi, informazione e colloquio. Se io do le informazioni reali, aggiornate, da lì parto, riesco ad avere un colloquio, e l'interesse di qualsiasi banca in Italia è che l'operazione, è tenersi cliente, perché i clienti si fanno una fatica incredibile a portarseli e a perderli un attimo, quindi il cliente è al centro, perché le banche sono società di servizi, senza clienti non hanno ragione di esistere, se non per una parte minima della propria attività. L'altro è, teniamoci il cliente, e teniamocela nella migliore dei modi, questo migliore dei modi arriva da una informazione puntuale e tempestiva, e un colloquio con la banca. Nessuna banca ha l'interesse di dire, ah, hai sforato di mille, adesso ti tolgo ogni tipo di merito creditizio, ti blocco tutto, perché così hai sicuramente perso il cliente, non hai portato a casa i tuoi mille, perché poi il cliente quando ha quella gola dice sai cosa c'è, i tuoi mille me li vieni poi a prendere, con tutta la fatica che si fa in Italia, con tribunali e non tribunali, e quindi si è persi tutti e due. Allora, il win-win, cioè vinciamo in due, è dimmi come sei messo, vediamo insieme se proviamo una via di uscita. L'80% di volte la via di uscita c'è. Anche per le aziende? Anche per le aziende. Ce n'è un 20% di volte dove l'uscita è preclusa, perché ci si è mossi tardi, perché si è andato oltre ogni limite, oltre ogni soglia, e lì si attivano altre procedure. Ma mi creda, l'80% delle volte, ad avere informazioni tempestive, ad avere la voglia di colloquiare serenamente con un referente di consulenza di banca, stessi essere privato, puoi essere impresa, alla fine la quadra la troviamo. Ecco, lei appunto diceva che è molto importante l'informazione, poi dopo il dialogo, la disponibilità c'è. Ecco, allora parliamo dei dipendenti, c'è stata, ci sarà una riduzione degli sportelli, c'è stata una riduzione del personale, ecco, che cosa cambierà nel rapporto fra personale, cliente, in questa, diciamo, che è una metamorfese non solo della proprietà, ma che è anche un cambiamento abbastanza incisivo. Cambia l'approccio? Cambia l'approccio. Cambia l'approccio perché, ripeto, creando la decima direzione territoriale in Italia, il modello distributivo che adotteremo dal 20 di novembre, quindi fra otto giorni lavorativi, è quello che Biper ha su tutta l'Italia. Ed è un modello, mi ripeto, che abbiamo testato, che ci ha dato notevole soddisfazione, proprio non tanto in termini di volumi, anche quelli forse, o di redattività, proprio nelle relazioni con i clienti. Noi come Biper, e quindi entrerà anche dal primo di gennaio Ferrara in questa indagine, mensilmente, c'è una società incaricata che chiama filiale per filiale, quindi identificando i clienti quella filiale, per una banale intervista telefonica, dicendo, la filiale agenzia Pinco Palla, lei come si trova? Cosa vorrebbe di meglio? E questo ci dà, mese e mese, con delle interviste ripetute, un lavoraggio. Scusi, mi sei sfuggito le interviste a clienti? A clienti. Ho capito. Quindi random, clienti di... Sì, sì, loro sanno che devono fare mille campionature mese per quella filiale, o per quel gruppo di filiali. Queste campionature vengono fatte, ci vengono restituiti dei dati, dice, guarda che l'84% dei clienti, questi sono i dati reali di Biper, è soddisfatto. Ce n'è però un 10% che dice che quel tipo di attività si sente poco seguito. Ce n'è un 5% che dice che non valete assolutamente niente. Quindi voi credete al sondaggio telefonico? Noi crediamo, più che al sondaggio telefonico, viene poi fatto ovviamente tutta una campionatura, viene fatto tutto un algoritmo, ci dà, esatto, è proprio un sistema, ci dà sia la customer satisfaction del cliente, quindi il grado di soddisfazione, che quello uno potrebbe dire vabbè l'84% è contento, che me frega, vada avanti. Ma soprattutto ci permette di dire quali sono le cose che non vanno, quali sono le aree da prendere e da cominciare, aree di intervento operative, e da cominciare a rinnovare processi, a rinnovare prodotti, perché probabilmente se lasci passare ancora tempo quell'84 diventa 83 e l'altra parte si alza. È proprio una denifica anche sul vostro teatro. Quindi sarà una novità per Ferrara, per i colleghi di Ferrara, che il 20 di novembre si troveranno, parte di loro, perché parte provengono da Viper, ad avere il primo giorno di banca, a livello di procedure, a livello di prodotti, a livello di servizi. Come è il rapporto, come è stato fino ad adesso? Ecco io, e la ringrazio per la domanda, perché ci tengo a farlo sapere, con chi ho potuto, glielo ho detto anche di persona, a me quello che mi ha fatto affrontare questa sfida, che ormai dura da 4 anni e direi che con lunedì 20 la mettiamo a terra, devo durare da 4 mesi, e con lunedì 20 la mettiamo a terra è stata proprio la voglia che sono riusciti a trasmettermi di ripartire dei colleghi che sono rimasti di Carife. Colleghi che mi hanno spiegato cosa hanno patito in questi ultimi anni a livello professionale, ma che poi portavi casa a livello familiare, ma che poi portavi nel tempo libero perché avevi pensieri e con qualcuno anche qualche incubo lottore. Infatti c'è molta sofferenza a Ferrara dal punto di vista del personale, dal punto di vista degli ex associazionisti, di molti clienti e quindi Bipper insomma deve caricarsi di molta energia. Ha una bella sfida. Allora per i dipendenti ripeto, sono loro che mi danno energia oggi particolare perché hanno proprio una voglia di rivalza, di far vedere cosa sono in grado di fare quando coordinate da una struttura forte che io negli ultimi anni ho faticato a trovare in altre zone d'Italia. ho già avuto tanti incontri con i clienti molti devo dire conoscevano già Bipper anche per altri versi e quindi c'è stato dico bene adesso ripartiamo e rifacciamo tutto quello che devo fare. Sappiamo che c'è una parte di ex soci Carife molto affranta però torno al discorso di prima. fino a un certo punto noi riusciamo a fare e soprattutto noi arriviamo il 30 di giugno quello che è successo dal 1838 al 29 giugno 2017 non vi riguarda ci riguarda molto meno molto meno ecco non vuole dire che non ci riguarda ecco quindi grande sfida è proprio quello di riconquistare la fiducia ecco e il rapporto con la clientela con il personale mi sembra che siete avete già degli ottimi rapporti con la SPAL siete già entrati diciamo nel mondo sì ma proprio perché noi eravamo già a Ferrara non è che siamo partiti da Modena diciamo andiamo a vedere questa città dov'è come ci si arriva noi ci siamo già trovati in un'intervista col Mantello quindi roba già di due anni fa ci siamo già visti tempo fa e adesso siete praticamente diventati la banca di riferimento di tutti i grandi eventi ferraresi che sono anche felici di aver trovato di nuovo un sostegno e ci sono anche con dei limiti con dei limiti con dei limiti ecco dicca i limiti no con dei limiti nel senso che far funzionare il territorio vuol dire farlo funzionare anche dal punto di vista sociale culturale e sportivo ovviamente ogni struttura ha dei budget ben precisi che poi riflettono sul conto economico anche la provincia di Ferrara e Ferrara avrà il suo budget come a Bologna come a Milano budget ferrei che non si sforano e quindi l'idea è quella di seguire le manifestazioni più importanti di questo territorio noi abbiamo già fatto il premio Estense quest'anno che mi sembra molto importante abbiamo dato abbiamo firmato il contratto per tre anni per il Paglio e quindi saremo 2018 2019 2020 gli unici sponsor e partner del Paglio di Ferrara fra parentesi è molto bello che il 2018 si festeggiano i 50 anni di rinnovato Paglio perché Paglio si perde la notte dei tempi la SPAL la seguiamo da sempre giovedì non domani la prossima settimana inaugura Futur Pera alla Fiera di Ferrara e noi ci abbiamo creduto in tempi non sospetti perché pensiamo che l'agricoltura a Ferrara quello che dicevo prima con i passi da gigante che sta cercando di fare con le eccellenze guarda caso la Pera beh se non sei a quelle manifestazioni lì hai sbagliato il territorio abbiamo anche una più grande azienda agricola italiana è una fiera internazionale quindi ci siamo detti ci siamo guardati in un piccolo comitato diciamo beh se sbagliamo quella abbiamo sbagliato il territorio non è che è chiaro che non riusciremo a seguire tutte le sagre le sagrette perché non abbiamo tempo però l'arte la cultura che sono due specificità assieme al lago alimentare di Ferrara sono nel vostro cuore l'arte e la cultura poi abbiamo con Modena anche una pinacoteca guardi io sono uno dei promotori e lo dico con grande orgoglio della partnership che ormai ha quattro anni di B per banca col premio strega quella è cultura e io ho visto nei tempi che da questa la cultura genera ricchezza se vogliamo anche un po' diversa come ricchezza da quella che intendiamo ma crea una ricchezza che fosse più importante di quella mobiliare bene io mi auguro che e quindi l'attivazione del premio estense perché di fatto il premio estense non è altro che un premio strega dedicato ai professionisti dedicato ai giornalisti ma comunque c'è una giuria c'è una giuria popolare dalla stregua dello strega che tutti gli anni decide qual è il giornalista che poi riesce a fare anche qualcosa che è oltre la sua professione come scrivere un libro di tematiche contingenti a me quest'anno non lo conoscevo l'ho frequentato mi è piaciuto moltissimo bene siamo contenti è un modo di portare cultura e ricchezza molto bello continueremo io mi auguro nel tempo a come dire a vedere che cosa succede come si come si muove questo matrimonio che sta per essere diciamo così perfezionato fra una provincia e una banca che si propone come rinnovata banca del territorio anche a Ferrara però voi non vi fermate con l'acquisizione avete in mente qualche cosa d'altro come gruppo si parla sempre di Unipol Banca e di un'operazione il nostro è un settore meraviglioso perché tutte le mattine c'è una novità una novità che qualcuno secondo me tira fuori ad arte o perché fa comodo allora è chiaro che Biper rimane il sesto gruppo italiano Biper rimane probabilmente il gruppo in Italia con il più alto indice di CET1 quindi quello che identifica la solidità patrimoniale e quindi è vero che tutte le volte che c'è da convolare o da far convolare a nozze qualche uno diciamo ma quello lo prenderà Biper a quello che so io oggi 8 novembre di dossier aperti non ce ne sono neanche uno è chiaro che come facciamo con i clienti parliamo con tutti per avere informazioni da tutti oggi sempre con i piedi molto per terra per essere più realisti del re quello che preme a me ma soprattutto anche alla direzione generale al ministro delegato è portare questa fusione a un compimento non per dire vabbè arrivato il 20 abbiamo fatto tutti perché siamo perfettamente certi che il 20 di novembre finiamo tutto l'aspetto giuridico societario che non ne nascondo che è stato un percorso a dir poco stancante ma dal 21 di novembre comincia la fusione comincia la storia comincia la storia nuova e quindi la fusione allora noi dobbiamo essere bravi a fine marzo a fare un primo bilancio dire allora la fusione è sulla strada giusta per essere riuscita o la fusione bisogna che riguardiamo qualcosa perché ci aspettavamo cose diverse quindi a marzo voi vi date questo appuntamento e già sì no trimestralmente è un discorso di guardarci al nostro interno quindi per l'obiettivo per il BIPER l'attuale obiettivo è ok arriviamo al 20 e giuridicamente mettiamo a posto questa fusione e quindi sparisce nuova carifa SPA arriva il gruppo BIPER arriva una direzione territoriale divisione del gruppo c'è da farla funzionare perché abbiamo preso degli impegni col territorio con le famiglie e i privati e le imprese del territorio abbiamo preso degli impegni con gli stakeholders ricordo che BIPER è quotata al Futsimib da anni e quindi abbiamo anche chi ci guarda e che ha comprato le nostre azioni che vuole sapere cosa state facendo va tutto bene quindi questo è la grande attività che dobbiamo portare avanti dossier su altre banche Unipol o non Unipol si parla ma per il momento che sappia io è assolutamente prematuro noi oggi abbiamo e quando parlo noi parlo come gruppo noi dobbiamo far funzionare questa è la sfida la sfida è questa la sfida è questa è una sfida sentita noi tutti i mesi probabilmente venerdì sarà l'ultimo ci riuniamo in una decina di persone a Modena fra cui l'amministratore delegato è il capo di questo comitato quindi non l'ultimo arrivato lo si chiama Comitato Progetto Carife e ci ha accompagnato in questo periodo a dire cosa c'è che va cosa c'è che manca venerdì sarà la summa di tutto quello che abbiamo fatto perché venerdì ne abbiamo 10 il venerdì della settimana dopo siamo in weekend lo chiamiamolo di fusione perché chiuderemo gli sportelli giovedì venerdì quindi c'è un momento di chiusura degli sportelli no venerdì 17 alle ore 11.30 chiudiamo gli sportelli come se fosse un prefestivo sì perché da venerdì ore 12 il tempo di fare la chiusura di quella giornata dalle ore 12 cominciamo realmente a fare la fusione a fare la fusione dal punto di vista anche diciamo dell'estetica da tutto cambiamo tutti i computer dentro le filiali cambiamo tutti i software nei bancomat cambiamo tutte le combinazioni le chiavi dei mezzi forti cambiamo veramente tutto e quindi facciamo le immatricolazioni i clienti a sabato e domenica sarebbero stati chiusi i clienti lunedì 20 si troveranno filiali diversamente addobbate perché ovviamente compariranno ovunque come le altre quindi il layout di tutte le altre filiali del gruppo Biper si troveranno chi non ha si troverà l'insegna montata al posto della vecchia di Nuova Carife tranne in quelli filiali soggetti a vincoli architettonici per i quali ci vorrà qualche settimana in più perché bisogna avere l'autorizzazione si troveranno in un ambiente nuovo io sono anche convinto che si troveranno in un ambiente con tanta gente con più sorriso sulle labbra che farà meno fatica dire buongiorno signora cosa posso fare per lei che secondo noi è il primo di una lunga serie di step ma per noi sarebbe già vincente per riconquistare la fiducia? si per riconquistare la fiducia per riconquistare un territorio che ci è molto vicino ma non perché ripeto ci sono pochi chilometri ma perché perché partiamo dagli estense perché abbiamo tante abitudini insieme perché abbiamo tante eccellenze insieme perché anche gastronomicamente siamo simili chiamiamoli in maniera diversa ma la roba che mangiamo è la stessa allora buon lavoro buon lavoro grazie grazie da questo buon lavoro dipende la sorta di moltissimi non soltanto di di sono assolutamente ottimista bene grazie 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 grazie